Ancora sangue, ancora una vittima sulle strade del Tarantino, una donna di 73 anni ha perso la vita a seguito di un terribile scontro avvenuto intorno a luna di notte di lunedì 16 ottobre a Taranto sulla statale 7 Ter che conduce a San Giorgio Ionico, nei pressi del centro commerciale Porte dello Ionio. Altre tre persone, tra cui il marito della vittima, sono rimaste ferite in maniera grave. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate una Fiat Punto su cui viaggiavano due giovani che erano diretti verso il comune di San Giorgio Ionico e una Seat Altea XL con a bordo marito e moglie che pare stessero tornando da un viaggio. In seguito al violento impatto la coppia è stata sbalzata fuori dall'abitacolo. La donna di 73 anni è stata trasportata ad urgenza all'ospedale Santissima Annunziata da un'ambulanza del 118 ma è morta poco dopo il suo arrivo per le gravi ferite riportate. Sono gravi le condizioni del marito e degli altri due ragazzi coinvolti, tutti ricoverati nel nosocomio Tarantino e in prognosi riservata. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia di Stato che ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica e stabilire le eventuali responsabilità.